La tradizione della chiesa di Ripa Candida ci dice che i fratelli Mariano e Laviero erano associati a San Canio, vescovo di Acerenza, e che il primo per la fede cristiana venne martirizzato sotto un torchio in Acerenza, come si attesta nell'ufficio che si legge nella festa di San Mariano il 30 aprile a Ripa Candida. Il martirio avvenne nel III secolo d.C. sotto l'imperatore di Ocleziano. Fortunato in ogni evento di Gesù di Letto Amante, che per Lui versasti il sangue nella ruota del mulino, a quel Dio che tanto amasti, per noi offri i tuoi martiri e ci impetri dal Signore le sue grazie per pietà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.